bella raga bentornati su kingdom come deliverance sono izio letterino oggi ci appresteremo a fare una nuova missione una missione che penso farà piacere un po a tutti che si ritorna a fare le missioni quelle principali so che mi dilungo molto nelle missioni secondarie magari non a tutti piacerà ma cercate di capire la mia passione per i giochi mi spinge a provare tutto del gioco non solamente la parte principale e andare dritto al sodo è bello anche ogni tanto nel gioco prendere scendere da cavallo e non so fermarsi a guardare un cartello un insegna una corda anche perché gli sviluppatori hanno perso tempo per decidere dove mettere questa corda dove appenderla la trave farla in un certo modo insomma diamo come dire merito a questi a questi sviluppatori che si sono dati tanto da fare guardate che meraviglia queste queste borse queste sacche da sella queste bisacce sono sono riduce da tre video sull'argomento spotify quello di utobi quelli di qui due sul server e quello di shy di breaking italy e onestamente trovo che abbiano perfettamente ragione ho avuto anch'io il mio passato di scaricatore forsennato di torrent e di tutto quello che riguardava il mondo dell'illegalità come tutti penso era era il periodo in cui tutto costava tantissimo ogni gioco costava un occhio della testa ce n'erano pochi e se volevi averlo insomma beh fatto sta che penso anch'io che non sia più una cosa dico consentita ma non sia corretta fare perché comunque queste persone ci hanno messo del loro per poter realizzare quella quella opera d'arte chiamiamola così e di conseguenza è giusto retribuirla lo stesso vale per spotify visto che non sapevo neanche che si potesse craccare la versione la versione del software quella diciamo da dispositivi da computer da mobile eccetera io l'ho sempre usato gratuitamente anche perché ascolto musica ne ascolto tanta ma non esco chi è che ha scorreggiato ho sentito una scorreggia ma le mucche scorreggiano non è vero comunque intanto richiamoci a ut schizzi kits kits ut schizzi kits e dicevo trovo corretto pagare cioè la discorso dorso di spotify costa solamente dieci euro al mese ragazzi cioè dieci euro al mese per avere tutta la musica possibile immaginabile ok non è proprio tutta però tutta quella che noi di solito ascoltiamo non mi sembra veramente lo stesso vale per i vari Netflix e via dicendo, cioè sono bene fitte che se uno può permettersi è giusto che paghi non è corretto rubare, rubare è sempre sbagliato che sia una mela che sia un vestito cioè rubare è sbagliato, punto ovvio che se domani una società ti dice bene l'ossigeno che tu respiri d'ora in poi è a pagamento allora la gente si ribella ma la musica il vestito non sono beni sì sono beni che servono per carità perché anche la musica serve ti rallegra la giornata e via dicendo, però se ne può fare anche meno nel vestito firmato se ne può fare anche meno si può spendere uno zero in meno andare all'OBS e comprarsi il vestito normale ok? quindi ho fatto questa piccola premessa visto che stavamo viaggiando e che ho visto che ci sono tanti commenti di persone anche adulti che pensano che sia sbagliato e danno del ladro a chi mette mette i blocchi per evitare la pirateria e ragazzi cerchiamo di capire dove sta dove sta la verità e dove sta la logica e usiamo un po' la testa ok? va bene finito questa manfrina noi andiamo a scoprire dove il bandito claudicante vive se ben ricordate dall'attacco di New Wolf siamo riusciti a capire dov'è New Wolf? qua siamo riusciti a capire che un un bandito zoppo vive proprio qua quindi noi andiamo a beccarlo perché sono sceso da cavallo non lo so andiamo verso di lui andiamo a incontrarlo come potete sentire mal di gola raffreddore e febbre no febbre non lo potete sentire ma ve lo assicuro è tutto tutto presente non mi ha ancora abbandonato nulla allora la me la da qui però ciccio io sono arrivato fino a quasi al fondo ah ovviamente sono andato dalla parte sbagliata e perché me la dai di là mi fai fare il giro dove la che a rossa è quella qua devo andare io mannaggia ma è possibile che tutte le volte sbaglio strada sapete perché? perché invece che guardare le case e orientarmi per il borgo io sono sempre lì a guardare la mappa allora è detto fatto devo girare a sinistra mi conviene arrivare qui e scendere io sono andato dritto di là cioè torno al luogo di partenza quindi direi che forse si scende di qua va bene anche di qua ok siamo vicini siamo vicini dove vive? indietro porca miseria di là torno indietro bravo cavallo di qui di qui? pare eccolo sono cavallerizzo è proprio qui davanti e dove vive? scusate qua sotto non vedo banditi claudicanti il punto è questo vedete che non bisogna mai fidarsi ah secondo me qua sotto vive in quel buco di no ci sono proprio sì 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 secondo me è qua sotto allora facciamo così vediamo se riusciamo a entrare di qua ok guarda che c'è pure l'ombra sembra anche un cavallerizzo serio eh vediamo se riusciamo a saltare la staccionata hop l'ho saltata assolutamente no magari se pigli eh la rincorsa pensa alla gente che mi guarda cosa pensa così si fa devi vedere uscire di qua allora che succede? non mi sembri zoppo chi è? che c'è? sei tu che parli? ehi parla salve l'uomo claudicante si ne conosco uno non immagino cosa abbia da spartire con lui ma saranno affari tuoi vivi in una casa alla periferia del villaggio bene concludi il dialogo grazie caro posso trovare Lubos ah qua no e Lubos ci ha marato il nome del tipo? ma che c'hai? nessuno c'ha niente contro di te permesso andiamo a trovare Lubos ops scusi madame bloody dritto di qua move along citizens move along there's nothing to see here if that's what you call nothing to see I'd like to know what something to see looks like Parakeisa St. Peter this is all I need we'll have to send word to Sir Hanosh that might not be necessary who are you? I'm Henry of Scalets in the service of Hanish's captain Bernard bravo what's up to you? shit allow me to introduce you to Limpy Lubos or all that's left of him hmmm he's out of the way oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah nothing's ever easy I'll have to take a look around and ask a few more questions if that's all right to do you can take this mess off my hands and welcome to it as for what else there is to find out I don't know but look and ask all you like oh mamma mia ok dobbiamo fare un po' di domande in giro allora chi era Lubos lo storpio? who was Limpy Lubos? a poor crafter and a scoundrel povero mezzadro oltre che un forfante non posso dire che sia sorpreso dalla fine che ha fatto frequentavo ogni sorta di delinquenti era sempre il sinonimo di guai zuffa e la tavana è certo perché Enzo piccava? ok qualche comportamento sospetto aveva amici? ok è giunto il momento di una caramella balsamica va bene niente non possiamo chiederti nient'altro adesso parlerò come se avessi una patata in bocca ancora su Lubos quando è stato rinvenuto il cadavere? quando hai trovato il corpo? e nessuno ha visto nulla? proprio ora e nessuno ha visto e sentito nulla e gli avranno messo qualcosa in bocca? c'ho qualcos'altro da chiederti su Lubos? no ok ma dici che il caso di entrare no ah ok è chiuso va bene meglio di no chiediamo un po' in giro a te che mi sembri uno informato chi era questo Lubos che era assassinato? insomma era un tipo abbastanza particolare qua la situazione sarà abbastanza problematica allora allora Locandiere Joseph abitanti del villaggio Marush abitanti del villaggio mi sembra un po' di ubriaco le due ecco tu mercante maestro d'arco capo stalliere Vasek Vasek tu sei quello dei cavalli? Vasek non ho ancora trovato il tuo cavallo stai tranquillo ecco ecco è riservata anche la traverma va bene è notato qualcosa di sospetto ecco 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 il prete attenzione vedi 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 ok grazie grazie Vasek cercherò il tuo cavallo non ti preoccupare addestramento e proviamo equitazione vediamo se ho già raggiunto un livello avanzato proviamo first you have to have some skills to hold ahh va bene va bene ok grazie mille Vasek sempre molto gentile quindi dobbiamo parlare col prete poi si stanno già andando via serve Joseph e questo lo sappiamo ok ok hai notato nulla di sospetto ah ok anche tu mi dici la stessa cosa va bene si la misericordia di dio cia 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 d'accordo sappiamo tutto quindi dobbiamo andare a parlare col prete che c'è ok fatemi dare una sciacquata no i pugni sciacquare ok ma lui rimane lì? con questo piccolo riflesso di sole bene bene dove è il prete? qui andiamo a parlare col prete andiamo a parlare col prete non vedo dove è il prete? qua qua vediamo la A ah la è qua B che cos'è? eh no dobbiamo andare a parlare col prete di qui di qui dobbiamo cercare immagino una chiesa corretto? che non vedo sarà tutta a destra? eccola vediamo vediamo questo uomo di fede se mi rivela le informazioni che ci servono di solito loro non possono dire che cosa hanno sentito durante la confessione mi rivela mi rivela mi rivela che la grazia di nostro buon Signore sia con te padre io sono qui con il nome di Sir Hanos di Leipa investigando il massacro di Neuhof che sembra di essere collegato con un uccidio qui posso te dire alcune domande? sembra che Sir Hanos sta imparando i bambini come investigatori ma chiede come vuoi chiedere spero che questo buon negozio si rivela si rivela anima perduta eh questo è un concetto generale eh ah io lo sapevo che questo non mi dice niente è segreto lo sapevo padre sicuramente non puoi essere seri ci sono situazioni in cui puoi fare un'esercizio ci sono cose che sempre applicano non importa quali le circostanze e questo è uno potreste condannare potreste condannare a morte altri innocenti no con la forza direi di no c'è un 77 potrei usare potrei usare o questo o questo potete non potete più arrecargli danno potete condannare a morte altri innocenti vediamo se questo funziona potete guardare guardare a me e mi raccontare questo ma porca in realtà se infrangessi quel voto e così via sarebbero peggiori magari non immediatamente ma un giorno ma un giorno il mille di Dio grano lentamente Padre Lubosch era il mio solo leado gli Neuhof solo lui potrebbe dire chi era responsabile se non capire chi era probabilmente non potete non potete ma non potete ma non potete la sanità di confesione te direi un'esercizio 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 potremmo potremmo parleremo nell'avvenzione nella taverna con una coppa buona potremmo potremmo qualcosa ok? grazie padre di sera alla taverna oh oh sta andando alla taverna hai appreso canzoni popolari bello mi spiace se io vengo a cavallo che c'è? che vi siete scambiati voi due visto eh? e non passare sulle cacche mazza se ce n'è direttamente qua per terra ma non pulite mai? eccoci la taverna beh è andata bene che l'abbiamo incontrato la sera ok siediti mi spiace non potrei sdivelare tutto ma tenteremo di trovare una soluzione oh mamma mia vengo da scalica ecco sono morti è la prima volta che vedo il tempo scorrere nella scelta dei dialoghi mi sono riuscita da scorrere e mi sono riuscita a ragionare questa la non avrei potuto aiutare i genitori oh mamma di rivivere di nuovo tutto E questa dove è comparsa E come hai venuto per ottenere questa attività? Mi aspettavo a signor Hannish di mandare quella vecchia bernard Bernard? Hai pensato che sono troppo giovane per il lavoro, padre? Sì, per dire la verità Beh, posso solo scusare per la mia maniera grossa e la pelle Ora la cosa più importante C'è in realtà che succedeva a Noyov La buona gente che qui riguarda sono dicendo molte cose Ma io prendo la maggior parte di questo con un po' di salt No, I bet Noi, non sono esattamente esattamente La Noyov stud farm è stata raiata da bandit Ma non sono arrivati a prendere o prendere i bambini Ma non sono arrivati a prendere i bambini Ma solo chiedono Maimati i bambini e scordi i bambini C'è sicuramente che i bambini di più Ma i bambini si trattavano tra loro e si trattavano E si trattavano l'attacco Sì, ma mi devi dire di Lubos E ora è il tuo turno, padre Tu non sembrava molto come il nostro prezzi Grazie 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 Oh Bene Sì Eccala. Ha iniziato a predicare a Praga in cieco e la gente lo apprezza, invece che il latino. Si dice, faccia sempre il pienone. Eccala. Eccala. Ok, ok, come, come, come. Beh, una volta bisogna ricordarsi che i papi avevano anche figli. Eccala. Amen. Eccala. 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 Io sono con loro in poverza e in sofferenza e tutto ciò che ci preoccupa! Io sono con loro e mi scusco queste strutture strutture in Sassau! Non dovrei sapere che qualcuno si spezia e vivi in sinne con una mese e poi si chiama il popolo per... per... per la scuola? No, non lo so! E' sicuramente un uomo uomo, un po' overzealous per il mio caso. Se fu fuori da Praga e veniva qui per un guardare, sono sicuro che avrebbe stoppito di condendere la drink e lì con le donne. Ecco. E dove posso trovare più sulle lezioni? Ti piace? Io copio alcune delle sue sermone. Se sei interessato, puoi leggerele a mia presbyteria. Molto bene. Che pensano i fatti comuni? Che pensano i fatti comuni? Le piace? Sono felici di ascoltare a qualcuno dicere cosa pensano loro, ma sono fatti di dire inoltre. Le cose che rendono angli. E si chiamano per un cambiamento. In un po' di anni si cresce senza controllo. Tu immagini le mie parole. Le persone si cresceranno e la città sarà sbagliata a sua base. E se si fanno per la città prima. Nostrapposito. Non possono fanno per un maestro delle università più respecti in Europa? Cioè ci ubriachiamo? Ma la tipa è uno, è due. Ma non mi tolgo mai i bracciali. Cioè ci ubriamo? Come over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's three hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. It's enough. Men, throw them out. Ma pensa a te. La bevuta? Are you looking for a fight? Henry, back me up. No. Essi, aspetta. Eh, buono. Te, te, te. Te, te, te. Te, te, te. E chi c'è? Mazza se sono forti, oh. Che c'è ancora? Oh, il balivo. Ah, il balivo è tosto, eh. Oii. Para. Mica scherza il balivo, eh. Bravo. Ce l'abbiamo fatta? Chi è che manca? Ce l'abbiamo fatta. Bella Goodwin. Adesso ci arrestano tutti. Eh, si è inchiodato. Ma porca miseria. Ok. Siamo riusciti a recuperare. Visto che si era bloccato. Ma questo sta portando le tipe... ... 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 sta suonando la campana perché oh madonna and now my dears comes the climax of the evening joy ma ma hai capito hai capito sto prete già mi piace ma chi oh madonna mi gira tutta la testa ma chi è che suona la campana mi gira la capa eh già se non ci arrestano oh signore che faccia eh tra un po' mi sa che arriverà il balivo però no godwin che sca mi oi mi Oh, fuck it out. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Henry. My great friend Henry. We have a wonderful time. Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Addirittura? Magari dovrei fare il sermone? È domenica? What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Mass! Oh, shit! I have to say mass! I have to say mass! You have to help me. You have to help me. How? You're the priest? I can't do it in this state. Maybe the liturgia. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can't. You can do the sermon for me. What? What? Yo! So, first, I investigate a murder. No one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege, you just came from studying in Prague, and you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. Yo, Mag. Let's start raving that. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Che puzza. Ma che... Ecco. Lo sapevo io. So all at once, the confessional seal isn't so sacred. Don't mock me. I won't give you a second chance. We'll never get away with it. Eh, beh, in effetti. Eh, beh, in effetti. Eh, beh, in effetti. All right. Bene. Oh, per la miseria. Va bene. Andiamo a recitare il sermone. Oh, adesso va meglio. Prima ero tutto bronzo. Forza, Padre Godwin. Eh. Mi fa abbiacare, mi fa andare a donnacce. Giù. Madonna mia, che figura. C'è pure il balivo. Quell'abbinazzato. Sì, ma io sono in mutande. Posso mica fare un sermone in mutande? E per i scalzi. Sì, ma io non potrei dormire l'amore con tutta quella clamor. In nomine Patres et fili et spiritus sancti. Amen. Oh, mamma di casca. Accepit panem in sanctas at veneribiles amanus suas. Tio, se gli inglesi parlano male il latino. Fratelli e sorelle, come di voi, hanno già avuto l'onore di conoscere Herri di Scalica, che è stato incaricato da Sir Hanush di indagare sugli atroci crimini di Neuhof. Neuhof. Ah, è Neuhof. ecco. Oh mamma tocca a me Inizia il sermone con atteggiamento sicuro Prolisso e conciso Ha detto di non essere troppo lunghi Eh però io così ho più vantaggio vediamo Oh mamma Dio è la guida della chiesa abbiamo il dovere di allontanare i preti dissoluti Dio è Dio governare il mondo e non l'uomo Oddio Prosegui con atteggiamento severo Continua con atteggiamento modesto Continua con atteggiamento appolloso It's the corruption of God's pastors here on earth That has brought misfortune on our heads Plague Enemies Injustice Hunger and chaos Failed harvests Fires Floods Un'altra catastrofe The occulted wealth That the church is drowning in Is poisoning almost the whole of Christmas When dogs are fighting over a bone Take the bone And they will stop Just like the flock of ravens That has descended on this land To peck up every speck of gold and silver They show no mercy Their hearts are poisoned by covetousness They trade everything Everything is for sale You want to baptize a child? Pay You want to steal and murder? Pay And you will have absolution And the prelate sin And give themselves absolution Grand Peccare è umano No Parla del peccato di fornicazione Ecco Meno male che ci siamo poi andati a letto Anche noi ieri sera con due Letto Sempre per terra Ehi Zitta Continua Con l'atteggiamento severo Ampoloso Mi piace Mi piace Fantastico And with the money grasped from the poor for indulgences They keep fine horses and hordes of servants to pamper them They play dice and garb their mistresses in expensive furs While Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head Look to your consciences, you robbers of the poor For you are seen by God and his people too Down with the prelates Away with them Critica Critica ai sacerdoti di soluti Incluso Godwin Critica ai prelati Ma difendi Godwin Azzarda Una situazione conclusiva Oh mamma E teniamo Speriamo bene The salvation of souls Instead, seek mammon And the idle comfort of lucrative posts Blessed are the shepherds Who share the poverty of their flock Who are as one with you And bear with you The burden of this earthly pilgrimage Who do not condemn your venial sins I, all honor to Godwin Let him drink like one of us That is all I heard in Prague Amen Amen Grandissimo Bravo Bravo Che faccia di Amen Grande, grande Harry Piaciuto di brutto Well, well, my boy You have talent And I can't deny it And you pulled a thorn from my side I almost didn't make it Yeah, I noticed I wasn't the only one Oh, what's to be done? I'll make it up somehow So About our bargain Although it's a sin So gluttony And fornication God does forgive a penitent So What did Limpy Lubosch tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Slow down I'm sorry But he didn't tell me that much Oh, oh, cominciamo, eh? Don't let me down after all I've been through For you Well Now, Lubos came to me Shortly after it happened And his conscience was gnawing at him Ebbene, vorrei anche vedere In the end He turned out to be a better man Then he looked He said They'd been hired Through some crony of theirs And at first They were just a stile Some horses But then it all turned sour And people started getting killed And neither he nor his cronies Wanted anything to do with that So they fell out from the gang And fled He nor me Yeah There was a body found In the woods by Neuhof That would explain something Lubosch kept jabbering That he wasn't a murderer That he didn't want to do it So I know That Lubosch killed the murderer And he's dead too The trouble is I need to find the ones Who are still alive I need names And places Did he mention any of the others? Only nicknames Talked about some fella Called Riki From Lodechko Pious Timmy Pious That lot are about as pious As I am ordained Nonsense You would make an excellent priest E' certo And if anyone should ask You heard nothing from me I deny everything I don't doubt it Grande Goodwin Che prete ragazzi Oh Bene E abbiamo fatto bisboccia Hm? Scia di fetore Eccolo qua Goodwin Ma io sono ancora Aspettate un attimo Mi girerà la testa come minimo Allora Missioni Sono un nudazzo Scia di fetore Rintraccia al fetito Ok Io direi che questo lo possiamo lasciare per il prossimo episodio Allora ragazzi Spero Spero vivamente Che questo episodio vi sia piaciuto Quanto è piaciuto a me Non pensavo Salve signorina Oh mamma mia Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Condividete il video E Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Noi Ci rivediamo nel prossimo episodio Bella raga Ehi Suona una festa Abbiamo fatto bisboccia He 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 So Ehi Ciao Grazie a tutti.